Sta per arrivare un weekend intenso e sportivo, tante persone ad Arezzo per le finali nazionali di Freccette. Che cosa succederà? Succederà che un migliaio di atleti si spideranno presso l'antefiere o sempre a fuori i congressi, si spideranno a sonni di Freccette e si contenderanno il titolo italiano di Freccette Elettroniche Categoria Soft per la Federazione Open D'Art. Dunque un'organizzazione che ha riempito anche la città di Arezzo perché sono tante le persone previste. Sì, le persone previste da fuori sono circa 600 atleti, a queste vanno sommate comunque sia gli atleti della regione che magari sono sfuggiti un pochino alla sorveglianza diciamo così alberghiera che ammontano da tanti, quindi noi prevediamo un piccolo di atleti di 1000-1200 per sabato. Bene, e questo sport delle Freccette si è diffuso molto anche nella nostra città, vero? Sì, siamo partiti più o meno nel 2006 con diciamo così una ventina di giocatori e quattro squadre per poi arrivare attualmente alle 140 della regione con i 1000-1200 atleti iscritti solo per la regione toscana. Considerando che poi verranno atleti da altre sette regioni sparse per l'Italia, vediamo quello che succede, vedremo quello che succederà dentro il centro affari. Ecco, in tre giorni per arrivare alla domenica pomeriggio con le finali? Esatto, esatto, venerdì partiamo con la finale comunque sia del Dark Master quindi dell'individuale che inizierà alle 19 apriamo diciamo così la sala per gli atleti, alle 20.30 circa inizierà subito la finale del Dark Master che proseguirà fino alle 2 di notte. Dopodiché il sabato mattina dalle 9 saranno le squadre a contendersi il titolo nazionale che poi disputeranno le finali effettive la domenica mattina, la domenica mattina dalle 9 fino alle 17 circa per poi effettuare la premiazione alle 18.30. Ecco, è previsto la presenza da Lecce anche di campioni nazionali? Campioni nazionali, non solo, ma anche campioni internazionali. Svezzavato è prevista la presenza di Cristo Reyes, un atleta professionista nel circuito PDC che inaugurerà o perlomeno darà dimostrazione delle nuove macchine online, macchine di ultima generazione con le quali è possibile giocare con atleti in tutto il mondo e il campione portoghese sala.